Due personaggi di spicco oggi in regione per la campagna referendaria a sostegno del Sì, Mario Segni e Marco Pannella. L'esponente radicale sarà nel pomeriggio a Pordenone e questa sera a Trieste. Stamane a Udine Segni e Pannella sono stati i protagonisti di un incontro pubblico. Tanta gente in piazza come non si vedeva da tempo ai comizi, tanta gente venuta ad ascoltare Segni e Pannella per la prima volta insieme. Due personaggi dalla storia politica enormemente diversa ma insieme per il Sì. Un Sì a tutte le domande referendarie del 18 aprile ma soprattutto a quella sull'elezione del Senato a sistema maggioritario puro per il momento. Un voto per cambiare il sistema hanno detto entrambi per liberare l'Italia dalla partitocrazia. Alla richiesta di spiegare la loro scelta sul sistema maggioritario secco o a doppio turno entrambi hanno risposto ci penseremo dopo il 18 aprile ma intanto hanno ribadito le ragioni del Sì. Le ragioni del Sì sono evidenti. Il Sì cambia. Il No mantiene questo sistema, questa partitocrazia, mantiene l'Italia dalla frammentazione e dalla disgregazione. Spero che tutti gli italiani lo capiscano molto bene. Anorevole, un Sì deciso a tutto? Ovviamente. Con la sicurissima vittoria del Sì avremo fatto un grossissimo passo in avanti per mutare il sistema politico. Prima del comizio in piazza Mario Segni aveva presentato il libro di Michele Meloni su Tiziano Tessitori a vent'anni dalla morte del leader democristiano, propugnatore dell'autonomia regionale. Tessitori, ha detto Segni, introdotto da Guido Botteri e dall'autore, rappresenta oggi un esempio per i popolari per la riforma.